Buonasera a tutti, sono molto contenta, si sente bene la voce? Beh, di partecipare a questo festival si vale la mente, anche questo titolo così interessante, sto tentando un po' di trovare una maniera, il titolo è rizoma, sicuramente è un termine comunque che torna a un certo mio interesse, anche nel modo di approcciare il lavoro, sono una persona molto preoccupata anche del termine rizoma, ma anche del termine tempo, ecco, e c'entra. Ecco, perché è una variante che non ho ancora ben capito nella mia vita, è indomabile, secondo me, anche di natura ben poco conosciuta, che mi interessa molto e comunque sempre torna in tutte le mie conversazioni. Chiamiamo rizoma e lo chiamo anche perché è una specie di metafora, sappiamo bene che rizoma in botanica comunque, e questo non è radice, è qualcosa di simile ma una radice multipla, in qualche modo una specie di fusto, che molte volte scorre orizzontale, sottoterra, che comunque ha meno inizio e fine, che comunque è un po' molteplice e che comunque richiama la complessità e non ha questo mondo comunque più duale, più ordinato, è comunque di quello che è la radice dell'albero. Mi ha sempre molto interessato, da quando già studiavo la tesi, c'era questo piccolo libro, un libro che è del 1976, di Deleuze e Guattari, Guattari perché è francese, Félix, insomma credo che si dica così, loro comunque questo piccolo testo, so che abbiamo un cane oggi qua, ecco, ecco che mi fa molto piacere perché fa parte di come vedere le cose, loro avevano questo piccolo testo che io l'ho avuto, uno di quei libri, quando parlo di un libro, sicuramente qua siamo fra persone che tutti, in qualche modo la lettura, è stato un gran compagno, il libro che per me secondo me è un libro che ho letto, sono quei libri che ho letto varie volte, quei libri che comunque in qualche modo l'ho comprato a volte più di una volta, o che comunque io sono spagnola, hablo francese un po' come spagnolo perché nel nord di Spagna capitava molto, era quello che si imparava, non pensavo di dopo finire in Italia, e sono quei libri che dopo finisco che ce l'ho in casa, in due o tre lingue, può capitare, e sono libri che comunque sono tornati, e che comunque se vado in viaggio, ma non ce l'ho, non lo trovo, sicuro l'ho lasciato, lo prendo ancora, e questi erano dei piccoli libri che comunque dalla tesi dell'Aurea mi accompagnò, e loro dicevano a questo discorso, non piantate, che comunque per me era una frase fantastica, ecco, casomai fate rizoma, o escarvare, in spagnolo dice comunque questa molteplicità e questa velocità, quasi sei fermo ma anche in movimento, o siate in movimento anche fermi. Questa è una foto di quando noi, mi ricordo mi chiamavano per mandare un'aspetto di immagine per un progetto, e io quel giorno stavo spostandomi da un posto all'altro, mi chiedevano 700 cose, come ci capita un po' a tutti adesso con questa rete di relazioni, e io dicevo, ma questa immagine, questa immagine, tac, ho fatto una foto della finestra del treno, e questa foto delle nuvole in movimento, ma con me che era il punto di vista anche io in movimento, e dopo diventò comunque un grande lavoro che abbiamo fatto a New York, e fu un momento, c'è un rispetto di intuizione del momento, e mi fa molta allegria vederla. Vi passo avanti. Rizoma, come vi stavo dicendo, è comunque in qualche modo questa radice multipla, e perdersi un po' questa idea un po' lineare di inizio e fine, che fa parte della nostra educazione filosofica, tutto l'umanismo un po' basato, con un tipo di ragionamento dove comunque ragioniamo, c'è una logica iniziale, c'è un processo, dopo comunque ci sono degli end, è finito questo mondo di fine, la fine della fine, abbiamo Bifo Berardi, abbiamo personaggi fantastici anche in Italia, che stanno aiutando molto anche strutture come americane, anche universitarie, anche a ragionare su questi argomenti, ma loro comunque in qualche modo l'avevano intuito, e hanno aiutato molto a tutti i ricercatori che stanno ragionando su quello che è questo mondo, molteplice, che è sempre visto dall'interno, pertanto che non lo puoi vedere dall'esterno, in qualche modo non li puoi ragionare, come un insieme, e trovo che è molto interessante comunque rifarsi a loro. Qua c'è un'immagine dove vediamo Pantera Rosa, Pantera Rosa anche loro la menzionano, e trovo che è un riferimento molto bello. Lei non si mimetizza per sparire di quel personaggio che la persegue da tutto il tempo, e va un po' oltre. Lei in qualche modo questo mondo che lei dipinge di rosa è come se fosse un divenire, lei entra in sintonia col suo divenire. La Pantera Rosa per me è una metafora meravigliosa. Eccoli loro, in un momento disteso, mi fanno allegria. Le reti, e qualunque concetto di rizoma dal punto di vista delle reti, è comunque una locandina di un film che mi piace molto, Miranda Giulai, è una donna americana, giovane, che sta facendo piccoli video, anche delle cose, e indaga molto su qualcuno che si chiama The Future, è molto interessante. Credo che è stata in Italia l'anno scorso, ho fatto anche qualche intervista, ma io conoscevo per qualcosa di New York, ed è una donna secondo me che stiamo facendo molto indagini, con molta ironia, cosa che comunque credo sia di grande aiuto, questo fondo a rosa, il rapporto interpersonale, in un mondo dove comunque abbiamo sempre questo lato un po' positivo e negativo, mondo dell'incomunicazione, dove comunque ci siamo tu e io, e il resto di quelli che ci sono intorno. Molto bello questo film. Con quello vado avanti, e in questa immagine qua, che c'è un po' come i termini che descrivono, ecco, di maniera dal punto di vista più filosofico, quello che potrebbe essere un qualcosa del rizomico, hai capito, che comunque sono correzioni, ma quello che non è importante. Io li ho lì perché mi serviva per creare un po' delle immagini per poter farvi un discorso. Accanto c'è con Rizoma, e dopo c'è un piccolo disegnino stupido che fa parte dei disegni che io ho fatto nella parte teorica della mia tesi, un po' tanti anni fa, perché più di 25 anni, non faccio neanche il conto, ma io facevo una tesi sull'abitare come sistema, sulla domotica, nel fine degli anni Ottanta, e ovviamente la domotica ebbe tantissimi problemi, perché era molto basata in un bus, che si chiamava così, che erano comunque con ragionati, c'era quello americano, quello giapponese, quello europeo, insomma c'era tutta una serie di ordinanze, c'era tutta una parte tecnologica che comunque diventò completamente obsoleta. Allora, finita la tesi, pochi anni dopo, il modo di intendere la domotica per un po' di anni rimase un pochino come tutto, queste onde, queste circolarità che comunque ho imparato a amare anche con la mia vita. Negli ultimi anni comunque è tornato un argomento importante, anche per comunque il modo di intendere una smart house, una casa intelligente, un oggetto intelligente, una vita di oggetti interrelati, è diventato comunque in maniera molto diversa, con tecnologie molto diverse, con tutta una serie di passaggi, un tema molto valido, ma erano molto divertenti. La mia necessità, che secondo me nel modo di pensare un po' rizzomico esiste, che non è quella di intendere più, di cartografare. Secondo me, da quando sono molto giovane, è sempre che faccio un progetto che io reputo un po' complicato, che questa è una cosa che comunque è aleatoria, non credete che comunque quello che per me diventa complicato, come per tutti noi, sia quello comunque, non c'è una visione canonica di questo argomento, è sempre molto, anche temporale, ecco. Per me, quando facevo la tesi, avevo bisogno di fare una carta mentale, questa era la mia carta mentale, che in qualche modo era molteplice. Mi ricordo Castiglioni, che era il relatore, fantastico uomo. Io stavo facendo la tesi, che era a cavallo tra design e architettura, nel Politecnico di Milano. Io avevo studiato architettura a Madrid prima, ma a un certo punto, senza nessuna spiegazione, io mi ero spostata qua, con tutte le difficoltà del caso, perché comunque, non sono me che validavano niente, ho dovuto rifare tanti esami, ma io vedevo tutto fantastico, cioè non ho mai avuto nessun, non ho dato mai nessuna spiegazione, infatti mia madre dice, non ti ho mai chiesto una spiegazione, perché ho capito che non me l'avresti mai data, e giustamente aveva ragione, perché non era molto facile da spiegare. Tutti dicevano tanto non finisce, io dicevo ma che frase, non è che era mia preoccupazione, secondo me Madrid, gli amici, Spagna, tanti motivi, ormai io mi sentivo, avevo bisogno di andare un pochino fuori della mia comfort zone, e secondo me ho avuto il coraggio, sono molto contenta di questa cosa. Dopo Italia ho creato il mio rizoma, non le mie radici, anche perché secondo me questo tipo di complessità si addice molto a come dopo ho affrontato il lavoro. e spero comunque di questa attitudine, analizzarla, capirla sempre meglio per poterla fare, non so, in qualche modo più reale, poterla far crescere. Non so, ho sempre molta preoccupazione di come io affronto il lavoro, come poterlo fare, intuirlo, come poter fare un'evoluzione sempre. Io ho una famiglia e un lavoro, lavoro in una casa e studio dove comunque portiamo avanti un percorso familiare, nonché un percorso di famiglia seconda, perché noi architetti, designer, quando eravamo in un gruppo che sia piccolo o grande comunque si lavora, si fa progetto, è un po' familiare in qualche modo. E comunque da un altro lato comunque porto tutto una serie di altre cose, tutte molto unite, la casa dove vivo e lavoro è la stessa, il lavoro, il mio primo socio è mio compagno, nonché mio marito, tutto è molto amalgamato e possibilmente corrisponde al mio modo di vedere le cose. Questa mappa comunque che mi ricordo Castiglioni diceva ma devi fare questa mappa, in qualche modo lui che era fantastico, era ben diverso di me, e giustamente, infatti, è una delle persone che si è pertenuta molta cura nei miei progetti di essere un po' lontana anche per non cadere nell'errore della coppia di persone che hanno dato un imprinting importante a tua carriera. E in questa immagine vi passo, qua c'è una immagine sola, sì, eravamo per esempio a Parigi a vedere il lavoro di Lafour Eliasson, un artista che credo che lui la complessità l'analizza tutti i giorni, sta lavorando con un equip molto grande di artisti e architetti. Noi conosciamo perché l'abbiamo aiutato per un lavoro che era una piccola micro lampada per aiutare, lui ha adottato due bambini in Africa e comunque sta tentando di comunque entrare in progetti che sono comunque molto semplici con delle valenze sociali ma comunque interessanti e a un certo punto fece un'esperienza di giuria per amplificare queste piccole apparecchie illuminanti, partecipare, siamo amici per piccole cose. Ma mi ricordo questa mostra, lui credo sia il più grande poeta, uno almeno, uno dei più interessanti artisti che ragionano sulla percezione perché al finale dentro di una rete uno dei degli argomenti più importanti è il punto di vista da quando si percepisce quello che si sta vivendo. per esempio passo da lui in questa foto qua tra l'altro eravamo mia famiglia ecco c'era una specie di una zia, noi, un'amica mia figlia grande io, Alberto mi piace come eravamo lì. Di qua avendo un studio che lavora in design e architettura con radici milanesi e felici dirò molto felici infatti sempre mi hanno detto ma amici spagnoli ma tu adesso vivi in Italia non torni, non ti muovi dicono secondo me a un certo punto fu difficile per me radicarmi lì e in qualche modo questa specie di non radici perché si viaggia questa città mi ha dato la possibilità di lavorare girando il mondo è la verità qualunque cosa che prende qualità in vostro paese e nel modo di lavorare almeno nel campo che io sto facendo in qualche modo ti obbliga immediatamente a confrontarti perché devi portare delle cose a fare vedere all'estero devi parlare lezioni dialoghi presentazioni clienti cioè veramente sono collegata in questi ultimi quindici anni che abbiamo allo studio profondamente collegata con tante reti non soltanto comunque tecnologiche di altre complessità tutte molto interessanti e ho tentato un po' di fare un po' una specie di collegamento senza neanche una grande ordine di comunque momenti dove io comunque sono collegata a cose come i processi miei si collegano a altre cose i viaggi qua eravamo in Giappone pochissimo tempo fa a luglio e a un certo punto c'era questa mappa che occupava una stanza come questa di Tokyo e a un lato quella di New York che loro avevano prodotto questi nostri clienti che noi stavamo lavando con loro per una parte di due torri stavamo facendo una specie di collaborazione e loro stanno urbanizzando una parte di Tokyo se era possibile farlo loro lavorano in gruppo vedete e la situazione era fantastica ho fatto tante foto che ho rubato quando non mi vedevano ma era molto interessante ho qua per esempio questo un viaggio quest'anno per vari motivi non abbiamo fatto un viaggio ma l'anno scorso abbiamo fatto un viaggio per il deserto americano e qua a un certo punto eravamo in Arizona è entrato in un hotel perché stavamo andando a vedere una cosa dei discipoli di Wright e entrando a vedere questo edificio che io mi immaginavo infatti un edificio che è tutto un po' con una pelle tutta lavorata tutte le pietre sono lavorate mi trovai tutte le persone dentro dell'hotel tatuate non capivo non capivo niente io dicevo ma guardavo facevo le foto d'architetto ossessionata intanto incrociavo gente ma tanto tatuati ma tanta gente tatuata a un certo punto si erano meschiate come una sovrapposizione di linguaggi di cose che dice no ma qua sta capitando qualcosa c'era un convegno di tattoo perché il periodo estivo era tale caldo a Phoenix che nessuno voleva stare lì solo noi che eravamo questa famiglia che cerchiamo il deserto col caldo e infatti eravamo da soli molto felici tra l'altro e loro e nel convegno e le immagini di questo albergo con questa radice comunque così per me temporale comunque di memoria trovando Wright in un mondo vi giuro era fantastico non osai fare molte foto per discrezione ma era molto divertente e la collego con una foto di questi linguaggi che si chiamano i pixelianos o così o pixelian che sono tutti brasiliani che fanno questo linguaggi che scrivono in continuo sui edifici anche a volte le trovi in edifici in Sao Paolo altissimi che non sai come sono arrivati ed è tutto un'aspetto di alfabeto tutto loro ed è molto interessante non lo so che sarei sicuramente faccio parte della ultima generazione quella l'ultima generazione che va a morire sì sicuramente possibilmente anche un po' di voi che siete qua con me possibilmente questo è il retro di un libro dove ha partecipato anche Obridge che secondo me è divertentissimo che si chiama l'età dei terremotos e noi sappiamo terremotos voi dite lì ovviamente di terra lì è terremoto ogni tanto dopo tanti anni di vivere in Italia ecco c'è una parola che dico presumo la mia testa che non è in italiano e che comunque la traduco e gli dico guardo Alberto che è qua e lui mi dice ma guarda che è la stesa comunque questo libro molto bello anche molto veloce anche di arrivare in maniera molto intelligente e parla molto di queste nuove complessità ecco ci sono anche dei termini molto belli è un libro secondo me molto interessante da guardare con questo concetto delle reti avremo a che fare anche con tutto un mondo di robotica hai capito complesso argomento io lo trovo molto interessante adesso si stanno facendo per esempio Vitra che è un'azienda svizzera che si interessa molto di tutto come cambieranno i nostri comportamenti e come comunque noi designer e spero che anche gli altri ci aiutino ecco ogni tipo di tecnologo che possa collaborare ed altro come dovremo anche progettare anche nuovi comportamenti anche perché ci troveremo anche a dialogare con tanti oggetti che avranno comunque una mente o che saranno robotizzati si potrebbe aver messo delle immagini molto più contemporanee io adoro questo lavoro di un artista dove comunque questo uomo un po' buffo un po' così in un divano un po' così anche lui e con un robot un po' così ecco ecco stanno tutti e due intenti a leggere un giornaletto così ecco mi piacciono molto ecco trovo che comunque è una maniera molto graziosa ecco di poter io cominciare a affrontare l'argomento e così mi torna sempre intensa quando parliamo di cose tecnologia questa immagine mi torna come comunque in realtà come se fosse un piccolo pet pet sarebbe in inglese piccoli animali domestici comunque dove comunque le patine che mettiamo possiamo anche poter mettere in loro e così poter convivere certe cose non lo so tutto questo sono temi che comunque hanno molto a che fare con un argomento che per me come vi ho detto è importante che è il tempo c'è un altro libro che per me è stato di gran molto vicino a me questi giorni ed è un libro che comunque mi regalò Alberto all'inizio dell'estate e andando e venendo di Milano per cose di lavoro tornò e me lo comprò un'altra volta ecco questo vi piace moltissimo perché lui sa che sono molto interessata a questi libri relativi al tempo e me lo comprò due volte questo libro è un piccolo libro che si chiama Ordine del Tempo ecco di Carlo Rovelli di quest'anno e parla un po' anche di tutta la fisica quantica ma in maniera molto logica ma parla comunque del concetto di tempo come dobbiamo comunque cambiarlo non è più questo grande tempo è un po' indipendente un po' intollerante questo tic tac dell'orologio che non sappiamo come gestire se noi comunque cadiamo lì siamo persi la nozione di tempo lo sanno già tutti e comunque è molto cambiata è molto evoluta la fisica quantica ci fa capire in maniera molto più complessa comunque queste relazioni non è importante adesso andare su questo perché possibilmente non tutti saranno interessati ma a me interessa molto è un tema sul quale continuiamo a parlare nello studio anche perché molte delle cose che dico io credo che ho scelto di fare un progetto perché è un tipo di lavoro che tante volte rimaniamo persi in delle cose che dobbiamo risolvere o delle cose che ci appassionano e perdiamo comunque la nozione comunque non so noi ragioniamo sempre abbiamo una consegna e a volte li vedo un po' agitati e dico ma che mancano tre giorni e dico ma no ma quante ore sono ma quanti minuti e dico ma allora dividiamola fino alle particelle suddividiamola in secondi abbiamo un sacco di tempo ecco perché molte volte dico meno stress e tentiamo di arrivare con qualcosa da quale ci crediamo ci mi preoccupa molto comunicare il lavoro con gente giovane e il senso del tempo da un lato loro lo hanno ben diverso del mio sono altre metriche anche quello molto interessante sono storie mi piace molto Mafalda e io mi ricordo da piccola seduta nel bagno leggendo le strisce e che lei dice io ho aperto lo studio a 40 anni e come lei diceva ma io non lo so se si comincia la vita a 40 anni perché nasciamo così presto ecco prima ecco io ho un po' questo problema di Mafalda lì sicuramente non lo so io ho avuto tante le mie lentezze meno male mi approccio al mondo non so le mie letture non è male le mie esperienze i miei errori tanti che continuo a fare e questa sperimentazione comunque a me portarono a aprire è uno studio che meno male perché abbiamo lavorato tanto in questi 15 anni infatti io a volte dico Alberto ma quando ci ritiriamo sarei già pronta a cominciare in una nuova fase e invece lui dice beh aspettiamo un po' perché un po' mi crede ecco non lo so non è detto che non sia una provocazione lo penso abbiamo fatto tante esplorazioni mi piace molto dello studio che la gente che ci avvicina dopo questi anni non vengono dicendo beh noi vogliamo di Orchiola perché lei non lo so ha questa forma di oggetti di un certo tipo perché lei ha questo spazio secondo me ognuno ti avvicina per motivi che è quasi meglio non sapere molte volte però una cosa che io noto molte volte che mi dicono a me fa molto piacere e che mi dicono non sai noi abbiamo questa cosa che lei comunque sappiamo che lei non ha ancora fatto e quello mi dicono mi piace questa premessa ma che secondo me lei questo le va a interessare e come lei secondo me è una persona molto aperta entrare in empatia con delle cose secondo me le sperimentali secondo me con lei questo lo facciamo ecco mi piace moltissimo in qualche modo si è creato un passaparola di una persona comunque non so disponibile ma spero che qualcosa di più aperta a processi dove comunque puoi collaborare e arrivare a cose arrivarono da Spagna a fare l'opera a fare una opera che comunque ovviamente mi spiegarono chiaramente che non pretendevano da me un lavoro da scenografo molto preciso però in qualche modo voleva un lavoro d'autore voleva che indagavamo comunque era un'opera di Monteverdi l'incorrelazione di Popea molto bella io dici no 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 parto molte volte con no 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 e dopo alla fine comunque una certa insistenza per parte loro veramente vogliono che facciamo fu un anno bellissimo anche perché facevamo tanti altri lavori ma questo lavoro completamente fuori che ci obbligava ad entrare nella musica in tante altre cose la preoccupazione di non capire comunque la scenografia anche perché io sono più per luogo abitabile lo posso rendere che funziona ma invece la scenografia devi creare un luogo abitabile che va letto nel teatro o almeno nel teatro in quale io ero frontalmente che era tutto un altro mondo è stato un esercizio molto bello e anche lì io mi facevo le carte mentale questa è una delle carte mentale che io mi facevo che anche i ragazzi dicevano gli stappate lì c'è con la carta mettevo tutto tutta l'opera era molto circolare questa è anche una mostra che abbiamo fatto sul tempo ecco una mostra dove io avevo fatto due entrate quella che era un fast track quella frase che leggiamo molte volte negli aeroporti che dici ci avrò io il biglietto per il fast track hai capito e quella una porta che invece era una specie di buco in forme fastidioso non c'era scritto qual era l'entrata e molta gente tentava di entrare per la posta del fast track che potevi perché non c'era un cordone che la vietava entravi lì e uscivi velocemente giustamente perché la mostra se entravi dal fast track nel museo se vuoi fare il fast track tu vedi così velocemente e approssimativamente esci e questo era il trucco se entravi dal buco la curiosità un po' boh entravi in questo marasma di progetti c'erano 100 progetti molto belli allora questo era comunque un gioco al quale ci credevo molto ecco era molta gente era molto bello per vederla uscire dopo del spazio questo tappeto coordonato che ti portava dal fast track e uscivano da sotto e passavano alla mostra ecco quelle più furbi altri comunque uscivano dopo volerano entrare un'altra volta dalla porta e si era creato una specie di circolarità bellissima anche qua anche io dicevo mappa mentale da sempre io faccio mappe mentale io cartografo moltissimo i progetti è una cosa che dopo dico ma lo facciamo vedere al cliente no perché si va all'armare e questo mi hanno detto molte volte no 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 quello non lo far vedere perché dopo ecco non così quella mostra andò in Cina e anche lì quando abbiamo fatto andare in un museo che aprivano un uovo non vi racconto e nel modo che loro montavano le pezzi e temporalità per montare la mostra non vi spiego ma non contenti Panerai era un sponsor e avevano riuscito a fare una cena dentro la città proibita in una stanza che non meravigliosa all'interno dell'interno dell'interno di un cortile dove c'era una grande non so un strumento musicale fatto da campane immenso che suonavano dopo tanti tanti anni che non trovavano le persone preparate per sapere suonare che erano donne tra l'altro mi ricordo che andravamo lì in questo luogo che ci portava la memoria facendo sta mostra sul tempo e sul futuro c'era un momento bellissimo fu un viaggio molto interessante in quella mostra mancava una macchina del tempo io dicevo allora ma no non possiamo fare tutti questi artisti e designer non avere una macchina non ci vuole non la trovarono e allora io andai ad un'azienda con chi lavoro ed amoroso e dice allora adesso noi la facciamo abbiamo preso tutti i pezzi di cose che avevamo già due poltroni da udor un coso due lampade abbiamo montato un'espetta di non so di ape di animale una macchina non funzionante perché se voi sapete l'unica macchina che non funziona al giorno d'oggi è quella del trasporto temporale ecco è l'unica la macchina del tempo è l'unica che è rimasta ancora nel campo della fantasia e della fantascienza pertanto un po' alla Munari rimane una delle nostre macchine fantastiche abbiamo un spazio ancora d'azione le altre mi interessano molto meno qua non importa la pagina la pagina di un libro di Maldonado lui faceva sul virtuale e il reale libri che io ho tornato a leggere dopo con gli anni sempre vi parlo di libri che io sono tornati da me quelli sono i veri libri almeno per me lì c'è questa immagine molto bella io lavoravo con un'azienda a Mirandola dove ci fu anche proprio il terremoto un po' di anni fa di Marmi tanti anni per cominciare a lavorare con loro diceva no io Marmi no cosa vabbiamo a fare di design con loro impossibile Alberto impossibile perché il marmo è già una materia così costosa e cosa possiamo fare non arriva a nessuno beh dopo tutte queste tonterie qua tutte le disquisizioni alla fine capì tante cose loro erano molto interessati abbiamo fatto molta ricerca con loro ma l'importante è una cosa che io dissi a loro lavoriamo con tutto quello che è il marmo di serie B chi lavora con marmo la materia così costosa così di valore loro sempre fanno una zona che è di materia B che è l'inizio di un blocco e questo è l'inizio di un blocco l'inizio di un blocco hanno come dei buchi che sono malfiniti nei bordi i clienti non li vogliono noi lavoriamo con tutto quello che non va bene e loro così mi mandavano le foto questa è la foto del figlio che mi diceva questa va bene e noi le riempivamo di resina ecco e facevamo per esempio questi tavoli con quello dopo tutto l'altro dei lavori che facevamo era prendere ci fu il terremoto e lei mi chiamò dicendo guarda sono contenta che ci sei tu perché c'è una quantità di pezzi adesso facciamo e abbiamo fatto un lavoro che si riferiva comunque a quell'argomento in più c'è stata una raccolta di soldi è molto carina e io questa mia paura un materiale come il marmo diventò una non paura con lei perché cominciamo a lavorare con qualunque tipo la questione era fare dei progetti che dove noi lavoravamo con quello che comunque veniva considerato non valido e lo facevamo ricircolare aspetta un secondo questa foto mi piace molto perché una delle cose che faccio molto con i clienti io vi sto raccontando più i processi i divenire mi interessa molto di più che vedete la mia professione da quel punto di vista non è oggi la sede di fare queste connessioni con le cose secondo me questo libro parla molto in maniera molto interessante che bisogna intendere il mondo non più solamente come cose se no come processi in divenire credo che è un mondo nel quale lavoro è quello che secondo me nel quale io voglio lavorare tra l'altro è la cosa che è più importante raccontarti qualche uno sta dicendo perché la padrizia non sta facendo vedere non so due o tre oggetti di un certo tipo poi se non vi darò quel gusto credo di no perché non credo fra l'altro ho montato le immagini da sola velocemente in modo di avere un ragionamento molto molteplice non volevo cadere comunque in essere organizzata e cadere proprio un grande errore loro per esempio mi mandano tante foto se vi dico a tutti i clienti guarda io non posso stare sempre con voi seguo tanto i processi diversi voi mandatemi foto qualche uno mi dice sì 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 non manda niente qualche uno lo capisce e mi arrivano a volte sto alla mattina e mi arriva una foto buongiorno e mi manda e stiamo facendo e mi mandano delle foto che è una cosa fantastica perché dopo diventano parte dei lavori che facciamo molte volte ho cambiato cose perché mi hanno mandato si crea una relazione molto naturale la quale ci credo moltissimo ovviamente con ognuno di loro ogni tecnologia che arriva a ognuno dei clienti con chi facciamo design vengo sempre interpellata Patrizia abbiamo comprato una macchina e dico mi sembra di essere l'ufficio ecco reclame ma che macchina avete comprato che non sappiamo come usarla dico ma siete da me siete sicuri mi dicono sì perché guarda adesso usiamo così ecco cominciamo sempre con che non capiamo niente e dopo siamo molto orgogliosi qua c'era una macchina a cinque assi per tagliare il marmo e loro erano disperati abbiamo trovato una maniera di tagliare le lastre a onde dopodiché le facevamo perforate in una certa maniera beh alla fine eravamo orgogliosissimi dell'uso di queste macchine non tutto è utilizzare nuove tecnologie c'è un altro lato comunque la mano che vedete dell'altro lato io ero in Giappone con invitata da Kyoto una rete vi dico di collegamento di lavoro sempre molto bella invitata per una settimana a fare con loro una specie di workshop di lavoro con dei ceramisti anche dei uomini che lavoravano nel bambù di Kyoto che da 50 anni non facevano cose nuove mi sono messa male ecco perché ero con una mia assistente italiana che tra l'altro era incinta che era una procedura anche lei molto interessante che diceva tu dai buona finché torniamo ecco non muoverti molto ecco voglio tornare anche a Milano perché era tutto molto simpatico dell'altro lato avevamo un ragazzo giapponese che dopo è rimasto dopo in Giappone a vivere perché era venuto da noi per qualche anno che lui appena arrivato in Giappone diventò molto più giapponese scusatemi il presudizio e diventò non comunicava più ecco io dicevo ma Rio tu dove sei l'interprete non mi stai aiutando niente e Rio mi guardava neutro fantastico in un'altra dimensione che era fascinante ve lo giuro era fascinante ma proprio era entrato in un altro e ho detto ok Rio Francesca tu e io Rio adesso ce lo dimentichiamo di fatto lui ci ha aiutato dopo quando siamo andati via perché lui era lì però fece a modo suo come sempre Giappone è fantastico da quel punto di vista è un mondo parallelo è molto bello questo era una parte del progetto facevamo delle piccole tazze io dicevo a loro loro volevano che io facessi dei decori io dicevo no 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 io non voglio fare decori dicevo no ma lei decori noi vogliamo lei per decori dicevo bene allora alla fine dopo non si si gli ho fatto delle tazze neutre ma quando bevevi la parte di dietro veniva fuori questo in rilievo il decoro allora tutti contenti abbiamo trovato ecco questa era parte del progetto questo era un periodo nel quale noi stavamo lavorando con Rosenthal in Germania sulle porcelana io pensavo di sapere tutto infatti il viaggio in Giappone dimostrò come sempre che ogni dialogo ti mette un punto di vista completamente diverso e affronti i processi completamente diversi pertanto come loro volevano che io li aiutassi c'entrava niente con il mio lavoro con Rosenthal pertanto non capivo niente di nuovo in Rosenthal era molto interessante perché erano erano delicatissimi prendevano appunti e tutto quello che facevamo loro dopo mi mandavano tipo due giorni dopo cose meravigliose abbiamo fatto un lavoro così bello che un museo di Munich presero tutto non solamente i pezzi ma tutto il processo e lo hanno loro nel museo a me mi ha fatto un grande onore avevamo fatto tanti prototipi ma tendenzialmente i miei prototipi un po' finisco anche in casa nel studio poi li rompiamo qualcuno li curiamo ma capito fu molto bello molto bello adesso tipo l'anno scorso un altro processo che era molto divertente c'è un'azienda italiana che lavora al vetro e anche loro hanno avendo ogni tipo di lavorazione essendo molto all'avanguardia a un certo punto hanno comprato delle macchine per print come si dice per stampare così complesse che ormai con un progettisti con un linguaggio molto pulito chiamatelo minimale molto essenziale nessuno gliele usa sono arrivati da me allora non so come spiegarmi questo mio volontà comunque di affrontare certe complessità ecco porta queste cose e loro mi dicevano cosa facciamo dico guarda facciamo una cosa facciamo una stampata multipla se volete complessità da me la facciamo doppia e questo aspetto di immagine liquida l'abbiamo fatto un po' diversa cangiante l'abbiamo unita tutte queste print in un estratto fra due vetri quando ti avvicini al tavolo si muove si muove questa specie di marmo trasparente io sono contentissima con questo progetto ma anche loro si chiamano Glass Italia non è l'azienda principale con la quale io lavoro ma ecco mi ha fatto felicissima questo primo giorno che mi mandò le foto per la mattina al mio telefono al whatsapp con questo io ero già non so per tre giorni camminavo due o tre centimetri più alta la casa essendo designer e comunque della facoltà di architettura sono state due professioni diverse ma comunque molto collegate e con chi lavora molte volte io arrivo come designer da un'azienda io non parlo niente di architettura ma ho delle opinioni ma se andremo avanti adesso con questo posto ottenete mi vengono commenti e molte volte mi hanno chiesto di collaborare con loro si crea una rete più complessa allora aiutaci a fare questo e si diventa architetti ho clienti che mi hanno chiamato per architettura che mi hanno detto strittamente un lavoro di architettura dopo sono venute fuori che si sono appassionate di lavorazioni mi hanno chiesto quello ma perché non fa la seduta perché non fa comunque i rubinetti perché negli alberghi specialmente è capitato molto le due cose comunque la casa è un argomento che a me piace molto è un tema comunque secondo me lo spazio domestico è un tema sul quale si vive qua queste immagini sono io dentro dello studio fa parte comunque della mia casa studio adesso per esempio quest'estate parlavo con Benedetta Tagliabue italiana che vive in Spagna dello studio Miralles Tagliabue che lei come architetto ha seguito molte cose là adesso lei sta facendo per questo progetto di piccoli abitacoli che si fanno con architetti vicini a ospedali dove si cura del cancro un progetto Calida si chiama sono stati quasi tutti realizzati in Inghilterra e a lei è una delle poche che hanno chiesto di fare qualcosa è molto legata comunque a Inghilterra per vari motivi e le hanno chiesto di fare uno in Barcellona e lei ha fatto l'edificio il progetto dell'edificio e a me mi hanno chiesto di fare gli interni e sarà un progetto comunque si fa un progetto sociale molto interessante dove comunque dobbiamo far diventare quel luogo non solamente con le superfici con l'uso dei materiali un luogo dove se devi stare del tempo facendo delle cure tu hai comunque esci dalla porta dell'ospedale da un piccolo giardinetto entri in questo spazio che è pensato per te hai una cucina il centro del luogo una cucina stiamo quasi tutti lo hanno e secondo me è una iniziativa molto interessante sono molto contenta penso comunque con questo guardavo molte volte secondo me è importante capire come noi guardiamo anche come recepiamo in che modo siamo collegati con le cose che ci interessano questa è un'immagine molto bella che guardavo l'altro giorno De Vitra Design Museum su questo concetto della casa su anche questo linguaggio neutro non neutro sul concetto della luce su questo white house o spazio bianco un po' da mandare un po' in contraddittorio e pensavo per esempio a una casa io ho fatto poche case private una era per un cliente con chi lavorava in design e lei comunque è una donna dove il suo bianco è un rosso partiamo da una donna che comunque la sua percezione del bianco il suo white canvas è un rosso il marito comunque è un artista senegalese ed è un uomo pieno di colore con molta energia la casa è una casa di un grande dialogo perché ci conosciamo molto ed è una grande interpretazione spero comunque di questa amicizia con loro non era un servizio ecco comunque è stato un esperimento molto bello noi comunque continuiamo a fare comunque sia per le mostre sia in rapporto con le aziende di design sia per quando facciamo lavori di hotel molti approcci diversi a quello che è questo tema questa è sempre un'immagine sempre di Olafur Eliasson e l'idea del colore o del passaggio della luce attraverso il colore e il cambio che percepiamo questo è uno dei tavoli che avevamo fatto in studio che ce l'ho vicino alla mia finestra e che ogni giorno mi crea quell'alone nel tetto che vedete lì che si muove per la stanza quell'alone che vedete nel tetto è un aspetto un'aspetto di florescenza che mi diverte moltissimo e che comunque mi fa pensare secondo me l'apparecchio illuminante ancora non stiamo lavorando abbastanza sulla sua qualità di interazione con gli spazi secondo me è tutto un discorso che stavamo facendo l'altro giorno molto bello questo è un apparecchio illuminante fatto con Floss che mi ricordo tornavo del Giappone con questi piccoli oggetti di lendi di bambù che sono per per schiumare il tè dal quale comunque cominciò questa analogia molto grande o per esempio qua facevamo un hotel in Vieques che è un'isola che è stata a base militare per tanti anni in America abbandonata veramente non una decolisi caraibiche americane che comunque sono molto più adomesticate questa proprio aveva anche cavalli selvaggi per l'isola pericolosi anche di notte perché te li trovi per la strada e in questo posto mi ricordo che per fare l'hotel feci un'altra mappa mentale ecco io ero lì e qualche lì mi ricordo non la facciamo vedere e mi divertiva molto perché mettevo tante cose da questa mappa mentale io chiese ai ragazzi che lavoravano con me faremo la mappa dell'isola per due anni l'abbiamo avuto per terra nello studio chiunque lavora a questo un lavoro da fare dove la gente deve essere con sandali in una maniera tranquilla non è un hotel cittadino non cadete nel concetto di design come ricerca di un certo tipo dobbiamo essere molto naturali il luogo lo chiede chiunque vada a fare questo lavoro deve fare qualcosa con le mani che lo mette in questa mappa e abbiamo cartografato una mappa che dopo abbiamo messo nell'hotel all'entrata molto divertente dove abbiamo partecipato tante persone dello studio non c'ho la foto qua ma fu un pensiero che ricordo molto bello con le alberghi mi sono sempre trovata quelli che stiamo facendo con delle conversazioni molto dense anche perché comunque parli in molte direzioni in questo quest un hotel a Milano e non era un hotel di tante stelle abbiamo fatto un Encomo che era un hotel molto più sofisticato questo doveva essere un hotel molto più friendly molto più semplice molto più avvicinabile per gente più giovane sta funzionando molto bene sul TripAdvisor su varie cose e è andato su sapete come questa città Milano è una città che comunque cambia anche i valori degli alberghi in rapporto a tante altre cose un'altra rete molto complessa comunque studiando lui ragionavamo che era la mia milanesità e fu molto molto divertente le cose che che vennero fuori di questo progetto questo era invece in Singapore ci hanno avvicinato delle persone che stavano facendo una torre che era ventilata con dei grandi vanni e l'hotel partiva dal secondo anche al terzo vano che c'era in questa grande torre e aveva una seconda parete tutta di metallo con tutte delle piante nell'intermedio ecco e questo sta crescendo ancora perché sono edifici con certe calvi è molto interessante adesso ma l'idea è comunque finita l'hanno finita tipo un anno fa come facevamo l'hotel all'interno all'esterno era tutto un tema molto interessante difficile da gestire perché era in Asia complessi le relazioni ma dal punto di vista di complessità fu molto interessante per noi avevamo imparato molto è stato questo quello di Como che invece vi dicevo invece qua per me era tutto tornare alla memoria sentire il luogo molto genius loci oggi quando arrivavo qua essere qua andare a mangiare siamo andati a mangiare qua fuori della città e vedevamo tutto il territorio dopo eravamo dentro a cenare ieri cammini per questi veicoli non so tanti luoghi d'Italia una grande densità storica nemonica cioè importante e come al lago del Como per me era molto importante portare al progetto comunque dati molto precisi questo lavoro fatto digitale un'altra ricerca che facevano sul tessile che fu molto interessante dove c'era un ingegniero una ingegniera non so bene mai come dirlo che era quella che poteva utilizzare la macchina che poteva fare questi disegni digitali di imbroderi grandissimi 15 giorni prima del salone del mobile si amalo e dicevano il cadizio non lo può fare come non lo può fare due mesi che sto diventando matta con i disegni preparando tutto no perché avevo tutti aspettato a che lei si riprendesse un pochino per comunque finire con tre giorni di ritardo tutti questi lavoro digitale che lei era l'unica che riusciva a farlo la fu una fatica immensa ma che me la ricordo molto divertita perché c'era tutta questa complessità che alla fine si era ridotta ha comunque si è incepato il meccanismo interessante qua con i tappeti anche ho seguito molto ho lavorato molto in una maniera molto artigianale questi sono tappeti fatti in India dove comunque mi mandano foto e continuo a parlare con loro tentiamo di far così o cosa invece gli altri sono fatti in altre parti di Asia ma sono molto realizzate con tutto un altro linguaggio è un tema per me molto distensivo molto bello aiuta molto ho qua per esempio vedete i due lavori di destra sono fatti in Italia sono ricerche su sedute di vario genere con legami alla memoria invece gli altri due lavori sono fatti in Africa uno è fatto in due parti diverse una in Botswana e l'altro in Senegal e con due aziende molto diverse dove comunque uno era la ricerca dell'intreccio nell'altro invece la ricerca su dei legni molto belli o questi sono tutto un lavoro fatto con B&B una compagnia italiana ma che fabbricava tutto l'inizio del outdoor dei mobili per esterni in Filippine e mi ricordo che andavo a fare un workshop di una settimana dove non finiva più perché io chiedevo a loro vai a casa beh portami di casa cose che hai tu e personali e mi portavano mi portavano dei centrini delle cose e tutte quelle cose sono state inglobate nel progetto meravigliose non avevamo un posto per capire alla fine giornata che eravamo tutti sudati un caldo allucinante però abbiamo fatto come se fosse come questa quinta qua anche più profonda l'abbiamo fatta con due e lì mettevamo alla fine giornata alla fine di una settimana avevamo un sacco di lavoro eravamo tutti molto contenti anche nel modo che procedi il processo è fondamentale anche in che modo come loro non so come i colleghi no? ho questo lavoro è stato molto interessante e qua passo un attimino Cassina è stata un'azienda che anche lì a livello comunque di ragionare sotto questo punto di vista del rizoma e delle reti per me è molto importante ho cominciato a lavorare da due anni e non solo come designer se no come art director parola che per me è molto classica che non ho mai amato ma è un'esempio di operatore che devi lavorare sotto molti punti di vista aiutare a loro secondo me non come dal di sopra sino dal di dentro e lì abbiamo cominciato a lavorare molte volte delle cose che mi arrivano sono a Milano sto viaggiando mi mandano schemi che stiamo cambiando sulle cose d'architettura sono un'esempio di piccolo animale mangia tutto hai capito rapportato a loro che cambio veste in tantissime maniere e comunque stiamo tentando di vedere prodotti come queste sedute delle corbusier intese come saranno i loro rapporti col futuro facciamo prototipi comunque lavoriamo su progetto di oggetti ma anche comunque sulla sede la sede ogni volta che andavo gli dicevano ma non è possibile questo capannone qua qua entriamo non funziona qua per andare in mensa non ci siamo basta adesso ti diamo una parte del budget e lo metti a posto e abbiamo inaugurato a luglio tutta una serie di cose che abbiamo fatto per comunque la sede lo stesso comunque è arrivato il salone del mobile che sappiamo tutti che nel mio settore è una cosa comunque di una certa validità abbiamo fatto i 90 anni e ho detto ok festeggiamo più che i 90 anni festeggiamo i 9.0 cioè comunque i 9.1 noi entreremo un'esempio di metafora un po' più dialettica con il futuro e col mondo digitale e abbiamo fatto un'esempio di presentazione dove ragionavamo i pezzi degli storici dell'azienda quelli che stiamo facendo adesso con un abitare del futuro l'abbiamo fatto nella fondazione Feltrinelli che era il nuovo edificio nella città pertanto ci collegavamo alla città da una maniera molto per me interessante e abbiamo fatto tante indagini molto ironiche su come vivremo con tanti dati digitali questa è un'immagine per esempio quello che si vedeva dentro di questi occhiali che avevamo fatto degli artisti amici a noi facevano queste comunque visioni molto interessanti abbiamo portato questo specie di capanno meraviglioso e comunque è storico dell'azienda perché ha tanti anni ed è prefabbricato che molta gente pensava che era un nuovo abitacolo invece storico e l'abbiamo messo dentro dell'edificio nella parte più alta abbiamo fatto la sala di lettura che di giorno diventava sala di lettura perché io ho detto io non fermo la funzione dell'edificio ma di sera diventava un luogo di feste e di teatro dove comunque le reti sociali il comunicare il nostro vivere diventava un luogo molto fuori avevo messo tanti attori meschiati con il pubblico che interpretavano comunque anche i prodotti e le stare lì c'è questa immagine di Perec che ho sempre adorato e sdraiato noi facevamo uno del ragionamento che dicevamo nel futuro ci sarà anche ci sono due personaggi molto vali di Coromina una donna che è professoressa di Princeton che è venuta comunque per l'evento che le diceva parte di uno dei futuri della Vitale sarà quello di essere sdraiati vuol dire che non dovremmo essere sempre seduti in maniera convenzionale in qualche modo per poter effettuare del lavoro perché faremo delle cose già da casa alla mattina stai già rispondendo un'email prima di uscire sei in vestaglia e sei non so con una tazza tante volte anche sdraiato sa che in qualche modo mi piace molto lui perché secondo me è un personaggio molto importante per la lettura degli spazi quando abbiamo fatto questo luogo abbiamo fatto tante delle pareti si animavano da sole e c'era questo comunque gioco di passato futuro tutto insieme che a me divertiva molto dopo abbiamo filmato che cosa mi è capitato che in tutto questo progetto nel quale ho preparato con molta intensità perché mi esponevo molto come art director come un'azienda alla quale dovevamo raccontare alla città e anche al mondo un progetto molto bello e qua vado così per andare avanti tutto questo che io avevo preparato avevo progettato mi trovai aspetta un attimino perché sta fondendo il video e voglio fare andare avanti dove capitavano tante cose immagini comunque prese da artisti digitali le facevamo reali capitò che mio padre morì in coincidenza con il salone del mobile non è che io adesso sia così importante che vi faccio la confidenza ho dovuto dire durante il salone del mobile perché non ero presente tanto me ne sono fatta un motivo adesso ho passato un po' di tempo e questo argomento è digerito ma io mi trovai a vivere il salone del mobile tutto il progetto senza realizzarlo con distanza attraverso del mio telefono il mio studio mi mandava immagini e io visse tutta questa esperienza in contemporanea dall'ospedale in situazioni molto complesse e in qualche modo mi dava un bellissimo respiro era molto interessante vedere che le cose andavano avanti che avevo controllato il processo che le cose andavano avanti ma fu una realtà assolutamente virtuale nella mia vita fu molto interessante come ragionamento per me io cominciai questo lavoro con stavo quasi finendo cominciai questo lavoro con Cassina perché loro furono acquistati in questo mondo di interconnessioni che ormai è difficilissimo da capire l'azienda una delle aziende più classiche più valide di design italiane è stata acquistata da un gruppo americano comunque di una famiglia americana a capo non è soltanto un gruppo finanziario questa famiglia si chiama Hayworth io li conoscevo da prima e con loro stavo lavorando su come addomesticare gli uffici lo primo che ho detto a loro comunque sono 6-7 anni che abbiamo già rapporto non so se vi troverete bene con me però comunque l'importante è che ogni mezzo che voi mi date quando facciamo le fiere che sono a Chicago quelle che fanno l'ufficio voi intendete l'abitare come un spazio che dobbiamo ripensare quando presentavamo un tavolo tavolo di riunioni io li facevo questa immagine mi piace dirvi era molto importante il tavolo aveva comunque queste vasche in mezzo avevamo fatto un'interazione con una telecamera sopra il tavolo che quando tu ti avvicinavi al tavolo e prendevi degli oggetti che erano in questa vasca loro lasciavano una scia di colore e comunque si creava una cosa molto poetica anche perché lavoravo con dei personaggi molto ingegneri carinissimi dell'università di Michigan e tutto il lavoro era un lavoro molto poetico ma che faceva capire che poco a poco ognuno dei nostri comportamenti legati comunque a molti degli atti degli comportamenti normali dell'abitare si saranno collegati all'Internet of Things a tutte queste nuove natura intelligente degli oggetti o tutti questi piccoli device che tendremo dentro dei nostri strumenti oggetti e anche loro faranno parte ma faranno parte di una maniera che comunque siamo noi quelli che dobbiamo un po' capire in che maniera farli introdurre alla fine comunque certe analisi dei materiali dei colori perdiamo ore sono fondamentali quanto comunque l'utilizzo e altri tipi di ricerca che facciamo con loro qua devo andare avanti quando è così questo comunque sono parte degli oggetti che abbiamo fatto con loro questi erano loro questa voglio farvela passare e questo mi divertiva quando presentavamo le cose noi mettevamo le disposizioni degli uffici ma mettevamo degli oggetti che tu toccavi e quando toccavi l'oggetto che erano un pochino provocatori partivano delle informazioni nelle pareti tutte le pareti ti davano racconti era un po' come farli capire possibilmente la nostra interazione con l'internet negli oggetti arriverà quando veramente non diremo se è connesso o non connesso quando non lo parleremo neanche saremo direttamente sempre connessi pertanto ci sarà comunque una maniera comunque molto più naturale di convivere con queste cose per il momento comunque stiamo tutti quanti comunque lavorando sull'argomento e bisogna comunque utilizzare secondo me molti sistemi di lettura secondo me di tanta base adesso vi passo due immagini qua questa è un'altra immagine che voglio farvi vedere per esempio presentavamo queste sedute nuove quando ti sedevi sulle sedie questo era il nostro comunque prima vetrina che avevamo la parete reagiva e comunque entrava in rapporto con un coso erano tutti piccoli esercizi che a me interessano perché loro sono molto avanzati in questo a me servono per crescere nel capire che tipo di interfaccia con quale devo lavorare e anche per come farle a loro ingentilire o a si far diventare più gentili il modo di approccio a queste interfacce questo per esempio è un'immagine che nasce da un artista amico nostro digitale e l'altra comunque sono questi adoro queste sfere che trovi nelle fabbriche per poter controllare i corridoi dove comunque l'immagine della realtà sono di un certo tipo questi sono comunque quattro libri che mi hanno accompagnato anche tanto posso stare a dire o no la research mi ha accompagnato da quando la tesi l'intervallo perduto cose trasparenti e un po' di calderon della barca un po' per lasciarvi quando penso eravamo in Giappone adesso e all'entrata di un negozio che avevamo fatto hanno messo questo specchio di piccolo robot che riceveva che ti avvicinava a lui ti toccava ti parlava reagiva anche fisicamente un po' un po' strano loro lo vivevano molto bene a me mi sembrava ancora una figura un po' così e mi ricordava il barchigliero non so in Italia se voi avevate questa figura in spiaggia che passeggiava con questo grande botolone dentro dei biscotti ma quando tu lo chiamavi lui li dava a questa roulette che aveva sopra e se veniva fuori sì tu pagavi il biscotto no gratis ma così era se no tre ti davano tre invece di uno ed era una cosa che tu aspettavi che arrivasse lui perché era un aspetto di cosa non so avete capito fantastica e che comunque in qualche modo aveva tutto questo mondo non so lui rappresentava una rete infinita me l'ha ricordato e niente questo per chiudere lavoriamo a volte in India e parte delle donne con chi lavorava quello questo lavoro invece è un'immagine di un artista che mi è piaciuta tanto quella fotografia e alla fine è questo stiamo qua seduti il nostro corpo noi non so fatto di tante piccole altre cose espressa tutto l'universo non so ciao grazie a tutti grazie a tutti